Tutti siamo chiamati in questo momento a renderci utili perché la crisi vada via in maniera veloce e lasciando dietro di sé meno danni possibili. Cosa possiamo fare per questo noi professionisti della comunicazione e del marketing? Anzitutto un confronto continuo con cui ci sentiamo e ci scambiamo opinioni, consigli con gli altri colleghi delle regioni d'Italia per poter assistere e stare al fianco delle imprese in maniera efficace e in maniera pertinente in questo momento difficile. Due, contenuti utili. Abbiamo inaugurato sul nostro blog reputationlab.it una sezione chiamata La comunicazione ai tempi del coronavirus dove di giorno in giorno, di settimana in settimana, aggiorneremo i contenuti per dare indicazioni, consigli, condividere buone prassi con gli imprenditori che vogliono usare questo momento di stop forzato per raggiungere soprattutto due obiettivi. 1. Limitare i danni e posizionarsi bene sul mercato 2. Rafforzare, cosa fondamentale, il rapporto e la relazione con la propria community 3. Formazione, formazione e ancora formazione RinascitaDigitale.it è una bellissima iniziativa, una piattaforma di formazione progettata e lanciata dal collega milanese Stefano Saladino a cui siamo chiamati a partecipare e lo stiamo facendo insieme a tantissimi altri professionisti della comunicazione. Ogni giorno registrandosi sulla piattaforma è possibile accedere a contenuti gratuiti, webinar di formazione di tantissime tematiche. Noi saremo online il 20 di marzo con il primo appuntamento dalle 11 alle 12 con un seminario su comunicazione di crisi e reputazione. E infine il nostro tempo, la cosa più preziosa che abbiamo a disposizione. Dalla prossima settimana metteremo a disposizione degli imprenditori degli slot per delle consulenze telefoniche gratuite perché questo momento non sia solo un momento di fermo ma sia anche un momento di programmazione e di rilancio. Quello che ci auguriamo tutti. Grazie a tutti.